Rimedi naturali e casa per il cancro del fegato. Il fegato è un organo vitale situata vicino alla parte superiore dell'addome e svolge un ruolo importante nell'assimilazione delle sostanze nutritive dal cibo. È necessario anche il fegato per sbarazzarsi di tossine filtrando il sangue. Il cancro del fegato può svilupparsi sia all'interno del fegato o diffusione da altre parti del corpo al fegato. Tuttavia, diversi cure naturali sono efficaci nel trattare con questa condizione. Dato che segue è un elenco di cure naturali per il trattamento del cancro al fegato. Modi naturali per curare il cancro del fegato. Ginseng americano. Ginseng americano è considerato un rimedio di erbe efficace per il trattamento del cancro al fegato. Diversi studi hanno dimostrato che il ginseng americano è efficace nel ridurre le dimensioni del tumore canceroso in varie parti del corpo. Ciò è dovuto al fatto che questa erba contiene fitochimici conosciuti come ginsenosidi, che presentano forti proprietà antiossidanti. La radice di ginseng americano è usato soprattutto in preparazioni medicinali per il trattamento di condizioni come il cancro al fegato. Prima di consumare questa erba, consultare un medico dal proprio medico, come il ginseng può reagire con diversi farmaci. Curcuma. La curcuma è considerata un efficace rimedio a casa per un certo numero di condizioni di salute, a causa delle sue forti proprietà medicinali. Curcuma ha anche dimostrato efficace nel trattamento del cancro del fegato, a causa del fatto che possiede le proprietà di un protettore antiossidante del fegato, insieme con attività anti-infiammatoria. La curcumina, una componente attiva di curcuma, è considerato utile nel trattamento di cancro al fegato. La curcumina possiede inibitori COX-2 che scoraggiano il flusso di sangue e tumori cancerosi, che aiutano a diminuire la loro dimensione ad un tasso costante. Trattamento dieta. Dieta gioca anche un ruolo molto importante nel trattamento del cancro del fegato. Si consiglia di consumare cibi con carboidrati complessi nella vostra dieta, in quanto aiutano a fornire energia al corpo. Cereali integrali e legumi sono ottimi esempi di alimenti che possiedono carboidrati complessi. Coloro che soffrono di cancro al fegato deve anche consumare frutta e verdura su base regolare. Questo è perché sono facili da digerire e contengono potenti vitamine antiossidanti. Frutta e verdura che sono benefiche per i malati di cancro al fegato includono mele, arance, ananas, ciliegie, frutti di bosco, uva, verdure a foglia verde, patate, cavoli e kiwi frutta. Gli individui affetti da cancro al fegato dovrebbero evitare il consumo di alcol, in quanto è uno dei fattori scatenanti principali di cancro al fegato. La ricerca ha dimostrato che i risultati di bere alcol in infiammazione del fegato si dovrebbe anche evitare di consumare troppo sodio, in quanto ha un impatto negativo sul funzionamento del fegato, in tal modo, un peggioramento dei sintomi di cancro al fegato. Aglio. L'aglio è considerato un efficace rimedio a casa per il cancro del fegato. Le ricerche hanno dimostrato che l'aglio aiuta a ridurre l'infiammazione associata con il cancro, per il fatto che essa presenta pro-orties anti-infiammatorie e antiossidanti forti. Che 3-6 spicchi d'aglio ogni giorno per trattare il cancro al fegato. Cumino. Il cumino è considerato un efficace rimedio a casa per il trattamento del cancro del fegato. Ciò è dovuto al fatto che essa presenta forti proprietà antiossidanti, che l'attività di combattimento di radicali liberi che sono responsabili per il verificarsi di cancro al fegato.